Per quanto mi riguarda avrei voluto nascere sulla luna o in qualsiasi altro pianeta. Altrove infatti non sarebbe andata peggio di come è andata qui. Esiste un ministero nascosto per la difesa della natura dagli esseri umani alla cui cura, gelosa e perpetua, è affidato il sonno in cui dormono quelle popolazioni. Perché voci ne ha? Perché vuoi rimanere qua?